Beh, partiamo da un presupposto, l'Europa si sta sgretolando per l'incapacità di prendere decisioni, non perché ci siano dei paesi che cercano ovviamente di avere una tutela per se stessi, ma perché non c'è una politica comune europea, non esiste una politica di difesa dei confini e non esiste una politica che garantisca tutti i paesi nella stessa maniera all'interno del sistema europeo. E' chiaro che qualcuno può dire ma sono posizioni egoistiche, ma io porto chiunque a pensare cosa farebbero gli abitanti di un condominio nel momento in cui il portone di ingresso resta aperto e nessuno lo controlla. Si barricano, chiudono le porte di casa, le porte dei propri appartamenti con tre mandate di serratura in più. E' chiaro che quello che manca è una gestione dei confini esterni, un sistema che garantisca e definisca in maniera certa che cosa fare nei confronti di queste grandi masse di immigrazione clandestina che si avventurano verso l'Europa. In questo momento cosa avviene? Tutti entrano, dopodiché ci sono paesi che non sono in grado di gestire, la Grecia è l'esempio forse più estremo, noi non siamo certo un buon esempio perché si sa, non si riescono neanche a prendere le impronte digitali e identificare. E' chiaro che ci sono paesi che stanno dall'altra parte dell'Europa che non vogliono che questi clandestini o questi sconosciuti vengano ad andare sul loro territorio. E non è neanche la parte dell'Italia una proposta comprensibile quella di chi dice, sì ma tanto noi siamo un paese di transito, poi mandiamoli a casa degli altri anche se non sappiamo chi sono. Perché questo è un flusso teoricamente infinito e nel momento in cui, porto un altro esempio molto semplice, si prende un ascensore e lo si carica oltre alla sua capacità di portata, questo crolla. Il sistema nazionale italiano quanto può sostenere ancora questo sistema, questo meccanismo di immigrazione incontrollata senza riuscire neanche a dividere i clandestini economici rispetto ai profughi che hanno diritto di assistenza. Ecco, se il sistema non riesce a dare queste risposte, il sistema europeo è chiaro che crolla e implode. Quindi controllare le frontiere e definire dall'altra parte magari del Mediterraneo, una cosa su cui insistiamo da tempo, chi può venire da questa parte e chi deve venire, significa dare anche dei segnali di un sistema, di un paese che esiste, di un'Europa che esiste. Altrimenti è chiaro, ogni paese cerca di difendere se stesso. Sì, scrive Giulia, una volta chiuse le frontiere le nostre coste saranno solo italiane e i migranti solo nostri, facile da capire. Vale anche che adesso le coste sono europee, o lo sono per tutti o non lo sono per nessuno, cioè non esiste frontex, hanno fatto tanto sbandierato che sarebbe entrato in funzione un rafforzamento frontex plus eccetera, ma in realtà dei fatti non funziona niente, gli hotspot che ci hanno fatto costituire, su cui anche Alfano si è tanto speso per dire che sarebbe stata la soluzione, non funziona, non sono neppure partiti.